Succede solo a Taranto con l'amministrazione comunale guidata da Rinaldo Melucci e con Chima Ambiente Amiu guidata da Giampiero Mancarelli. Ci troviamo in via Oberdan e vedete cosa è successo alcuni giorni fa. Un mezzo per la raccolta dei rifiuti, quei mezzi che sollevano i raccoglitori, i cassonetti, si è andato in avaria ed è rimasto praticamente bloccato. Voi vedete la leva, il braccio bloccato con il cassonetto sollevato. Una scena in cui ci dà l'idea di una paralisi che si è verificata nell'attività di sollevamento del cassonetto. E fin qui poco male, può anche capitare. Ma la cosa grave è che sono trascorsi alcuni giorni e il mezzo in avaria non è stato ancora spostato. È mai possibile, Presidente Mancarelli, una situazione del genere? Una persona che non sa nulla, magari non si rende conto, pensa magari che sia un'attività di trasloco. Invece no, è un mezzo di chima ambiente AMIU che si è paralizzato e sta fermo qui. Oramai fa parte dell'arredo urbano perché nessuno si degna di far rimuovere questo mezzo. È così difficile? Ma i cittadini che abitano qui, in questo palazzo, cosa devono fare? Devono convivere con questo colosso che da giorni e giorni dicevo sta qui? Queste, vedete, sono le chiacchiere dell'amministrazione Melucci sull'efficienza di Taranto. Qui ci si sciacqua la bocca con i nomi, chima ambiente AMIU, come se fosse chissà che cosa e poi guardiamo insieme uno scempio sifatto. Assurdo, ma non per il fatto che ci sia stata un'avaria, ma proprio per la incapacità dell'amministrazione e di chi ma ambiente AMIU a far fronte a queste situazioni di emergenza. Guarda, in quale città d'Italia si assiste a uno scempio del genere? Si rompe il mezzo e rimane lì. Vita Natural Durant, non ho più parole. Peraltro il mezzo in avaria è parcheggiato proprio nell'area riservata alla sosta del bus. Ma mi pongo un altro interrogativo. Se ad andare in avaria fosse stato un camion, un mezzo di un privato, ci sarebbe stata tutta questa tolleranza nel tenerlo qui dimenticato per giorni e giorni? Credo proprio di no. Evidentemente ci sono figli e figliastri, camion di serie A e camion di serie B, quelli che vengono tartassati e sanzionati e quelli invece che stanno qui per giorni e giorni. Mancarelli, Presidente, detto alla Tarantina Maniera, quando ti devi muovere, muoviti su. Che è questo scempio? Che è questa caricatura qua? Leggo, per una città poi più pulita, con le margherite, alla faccia. Ma l'avete vista Taranto? Che è ridotta da un immondezzaio pubblico con i cassonetti dei rifiuti che traboccano di sacchetti. Ma stiamo scherzando? Queste sono le favole di Melucci, solo apparenza, solo immagine, solo cura dell'esteriorità e poi questi sono i risultati. Ve ne dovete andare a casa, ecco perché Melucci se ne deve andare a casa e ha presso a lui tutta la Corte dei Miracoli, incominciando dal CDA di Chima Ambiente Amio. Grazie a tutti.